A volte noi ci dimentichiamo che questa è una città con 26 secoli di storia e che tutte le volte che è stata chiamata al cambiamento Milano ha dato il meglio di sé. A volte è una scelta, a volte è un obbligo. In questo momento è insieme una scelta e un obbligo. E io credo che il cambiamento lo facciano le comunità. Non lo può fare la politica in sé. La politica si deve prendere sulle spalle l'onere di guidare dei percorsi che i cittadini dettano, che la cittadinanza detta. Questo è quello che io credo si debba fare in questo momento nella nostra città. Vogliamo tornare ad essere esempio e fonte di ispirazione per il nostro Paese, per l'Europa e per il mondo. Grazie a tutti voi.